Toc toc. Chi è? Un assaggio che vi manda lo chef. No Deutsch, mi dispiace. Eh, come ti chiamo? Doris. Boris? Che fai stasera, Boris? Non capisco l'italiano. Ah, non capisci l'italiano? Ah, è il sentitivo che ti amo. Sei bellissima, Boris. Ciao. Aspetta, dove va? Stasera, dopo, non ci vediamo, tonight. Io vado al Marfish Iris, è un pub. Capisci pub? Come, non capisco. E ti serve un passaggio in macchina? No, grazie. Tagite già che sei bellissima. Ciao. Ok, ciao. Aspetta, Boris. Boris. Ti amo.